eeeh bello a tutti ragazzi qua Nicola Schiavi Parla ed oggi siamo in un nuovo video ragazzi come sempre un nuovo video però ragazzi io avevo pensato di chiudere il canale però questa cosa è passata ragazzi il canale nemmeno per sogno si chiude io continuo a fare video perché per un momento ho riflettuto e mi ero un attimo scocciato di fare video però ho un po' parlato tra me e me cioè ho parlato dentro di me e mi sono detto proviamo a continuare proviamo a continuare e ragazzi mi sto incominciando a non scocciarmi più cioè ragazzi adesso farò molti video perché uno c'ho la linea e poi posso posso praticamente fare posso fare tantissimi video ragazzi questa è la mia passione 2 perché ragazzi come sempre io mi ricordo che praticamente io facevo i video così ragazzi con questo con Bimo chi è che non conosce Adventure Time io mettevo la telecamera qua tipo così facevo bello a tutti ragazzi io perché c'è questa intro me l'ho ottenuta per da tipo quando avevo 6-7 anni non ne ho 9 e ragazzi finalmente ho potuto aprire un canale youtube poi mi ricordo le prime video tipo hello guys my name is basic ragazzi la intro non mi piaceva ho detto tipo al terzo video mi ricordo terzo quarto l'avevo cambiato sono felice del mio secondo video stato là e ragazzi io finalmente ho comprato il microfono la telecamera che sta qua e ragazzi già siamo arrivati a 21 iscritti ragazzi sono felicissimo di arrivare a 21 iscritti perché 21 iscritti io non me le aspettavo io dicevo minimo faremo perché io ho iniziato che praticamente per me era uno scherzo cioè per me volevo aprire il canale solo per fare un video così e arrivare tipo a 5-3-5 video eh 3-5 iscritti invece ho capito che i miei video vi piacciono qua lo dico quasi sempre cioè praticamente ho capito che posso posso stare su youtube italia ragazzi sono felicissimo tantissimo perché siamo arrivati a 21 ragazzi questo faccio speciale 20 iscritti uguale la mia passione cioè questo è lo secondo speciale perché quando ho fatto lo speciale dei 20 iscritti non ho fatto niente qua vi ho spiegato un po' la situazione come stiamo qua scriverò speciale 20 iscritti tra parentesi la mia passione 2 ragazzi sono felicissimo che devo dire da Nicolò se c'è tutto un bacione un abbraccione e ciao gente ciao